Svolgeva l'attività di dentista pur non avendo mai conseguito il diploma di laurea necessario per l'esercizio della professione sanitaria. Lo hanno colto mentre stava operando su un ignaro paziente, il 59enne odonto tecnico di Sulmona, denunciato dai carabinieri del NAS di Pescara assieme al titolare dello studio dentistico presso il quale lavorava, per concorso continuato in esercizio abusivo della professione sanitaria. Il NAS, a seguito delle indagini, ha sequestrato anche due sale odontoiatriche interne allo studio medico complete di riuniti odontoiatrici, apparati radiografici, autoclave, sterilizzatrici, imbustatrici e attrezzature per ortodonzia utilizzati abusivamente dall'odonto tecnico. Il tutto avveniva con il consenso del medico titolare dello studio che consentiva al falso dentista di praticare cure di interventi dedicati sui pazienti anche in sua assenza. Il materiale e le sale su cui i carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno posto i sigilli dell'autorità giudiziaria hanno un valore complessivo di oltre 500 mila euro.